classifica criminalità pesaro urbino fra le province più sicure d'italia domani gli stati generali del turismo parco san bartolo lavori in corso per valorizzarlo cantiano riparte dopo l'alluvione con una straordinaria fiera cavalli sport vl ko in casa vis pari spettacola d'ancona buona serata a tutti voi pubblico di Rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di Rossini news telegiornale di lunedì 9 di ottobre che apriamo con un bilancio che riguarda la sicurezza nazionale e che dice che la provincia di peso rubino si conferma tra le province più sicure d'italia e quanto racconta oggi l'annuale classifica stilata dal sole 24 ore in merito all'indice della criminalità nelle province italiane pesaro infatti al 91esimo posto su 106 province per quello che riguarda le denunce di crimini in proporzione agli abitanti un dato significativo se si considera che la provincia confinante di rimini è invece addirittura seconda in italia per criminalità in un podio che vede al primo posto milano e al terzo roma pesaro ancora più in basso in classifica per quanto riguarda sfruttamento della prostituzione pornografia minorile e tentati omicidi e invece motivo di riflessione il 37esimo posto in classifica per violenze sessuali il 47esimo per denunce di furti di ciclomotori e il 55esimo per spaccio di sostanze stupefacenti e una provincia sicura un ulteriore biglietto da visita per pesaro che domani ospiterà gli stati generali del turismo l'appuntamento nella sede di alpitur di strada fornacevecchia a partire dalle ore 15 un appuntamento che da anni rappresenta un'opportunità collettiva per fare il punto sulla stagione passata le previsioni su quella entrante per annunciare i principali eventi dell'anno a venire un'edizione che permette di avvicinare all'anno di pesaro capitale della cultura quando attorno alle 18 verranno fornite anticipazioni sul calendario degli appuntamenti è un ruolo centrale nella proposta turistica del nostro territorio ce l'ha sicuramente il parco naturale del san bartolo un parco che questo weekend ha avviato tavoli di lavoro per sviluppare ulteriormente questa realtà attraverso gli obiettivi di mandato del presidente silvano leva lavoro in corso per un parco intraprendente titolo del confronto permanente avviato sabato attorno alla valorizzazione del parco san bartolo un lavoro a più mani per un centinaio di soggetti coinvolti quelli che il presidente silvano leva ha riunito nell'auditorio di santa marina alta per intavolare tutta una serie di azioni volte a valorizzare ulteriormente il parco dal turismo alla cultura dall'ambiente all'agricoltura avviati una serie di tavoli di lavoro che coinvolgono amministratori operatori economici turistici culturali e ambientalisti leva ha già avanzato varie ipotesi dal ripensare ai ruoli delle due sedi quella di fiorenzuola e quella precedente di baia flaminia fino ad iniziativa pagamento e noi chiaramente vogliamo investire vogliamo fare dei progetti dei programmi quindi le guide le guide stanno lavorando ma non c'è collegamento col parco vogliamo coordinare creare un po di marginalità aprire le vetrine aumentare la gli spazi della logistica perché parco come dicevo prima parte da pesero e arriva che bice passando per santa marina colombarone che stelle di mezzo e quindi è chiaro che ogni ogni borgo ogni punto deve avere uno suo spazio perché anche con l'assunzione di nuove risorse abbiamo bisogno di una logistica più importante crediamo che pesero debba essere un punto importante perché parte la città della cultura 2024 che è un'opportunità ma con tutto il turismo anche che c'è su pesero che partono da baia flaminia e salgono c'è la possibilità insomma di di lavorare su questi temi quindi tutte quelle attività collaterali che danno visibilità e frequentazione al parco e che nello stesso tempo danno una monetizzazione non speculativa ma che serve per potenziare gli investimenti oltre quelli della regione dei comuni soggetti centrali del confronto i tre comuni che hanno dato vita al brand riviera del san bartolo da daniele vimini che ha messo il parco al centro dei ragionamenti della natura della cultura di pesero 2024 e che assieme a gabice gradara sta potenziando le sinergie comune di abice mare di pesero ma anche gradara e tavuglia che insieme cercheremo di sviluppare con nuovi progetti itinerari che possono da un lato valorizzare questo bellissimo parte della regione marche e dall'altro anche valorizzarla e qualificare e riqualificare alcune aree per mantenerla anche in stato ottimale per un turista o per un cittadino che viene qua a fare trekking o anche solamente a passeggiare questi posti bellissimi quest'anno abbiamo sperimentato appunto anche la navetta che è stato un mezzo di trasporto sostenibile che ha potuto portare tanta gente a scoprire il san bartolo da pesa la gabice e con la trasversale dal parco verso gradara e tavuglia quindi allargare questo asse è fondamentale perché intanto aiuta in una politica di mobilità sostenibile a ridurre il traffico veicolare dei mezzi privati dall'altra è chiaro che serve anche per valorizzare e far conoscere a chi sceglie le destinazioni turistiche di gradara di gabice di pesero ma anche della vicina cattolica e quindi sconfiniamo nella romagna di far conoscere il nostro parco con questo servizio gratuito la proposta su cui adesso stiamo lavorando di farla e consolidare questo servizio anche per il 2024 essendendone anche il periodo l'idea è di partire da pasqua per arrivare magari al gran premio di san marino che coinvolge tavuglia l'assessore regionale stefano guzzi attraverso la sua delega ai parchi ha fatto luce sui bandi a sostegno delle quattro realtà marchigiane 800 mila euro che l'attuale amministrazione regionale acquaroli e io come assessore regionale ai parchi ho introdotto annualmente e diamo in a ogni parco una parte quindi anche il san bartolo fruito di questo finanziamento per tutti i quattro anni dal 2020 ad oggi e spero e credo che le abbia utilizzate nel miglior modo possibile ma non è che sta a me decidere come loro li debbano utilizzare quest'anno ho introdotto un'altra regionale novità altri 200 mila euro che vanno per attività diciamo così legate può essere possono essere attività culturali possono essere alcune attività legate al turismo alla valorizzazione del territorio che vanno al di là dell'ordinaria amministrazione ho messo a bando 200 mila euro per intervento fino a 50 mila euro per ogni tipo di intervento e questo bando se lo sono giudicati diversi parchi 4 esattamente perché 200 mila euro quindi sono andati al sasso simone simoncelli sono andati al parco del conero e sono andati anche al parco del san bartolo e restando in tema san bartolo nella scorsa settimana ci siamo occupati con un reportage riguardante la strada della marina di fiorenzuola di focara oggetto di un incuria ed una mancanza di fondi a supporto sabato a tal proposito l'assessore regionale a guzzi ha fatto il punto sugli interventi previsti per la messa in sicurezza di questo percorso purtroppo in questi anni sono avvenute diverse situazioni problematiche legate all'uvione eccetera dopo il famoso incendio dell'epoca che ha diciamo così proposto questa problematica qui sul san bartolo e quindi l'alluvione di senigallia l'alluvione di maggio che è toccato anche la vicina romagna e tanti comuni di questo territorio abbiamo avuto il nostro bene da fare e sinceramente è rimasta un pochino indietro rispetto alla tabella di marcia il ripristino anche di questa parte del territorio che è tutta la falese del san bartolo comprensiva anche di quella che è la strada che da fiorenzuola scende verso la spiaggia ecco questa strada è compresa nel primo stralcio di interventi che si saranno provato entro il 15 di ottobre quindi siamo agli sgoccioli tant'è che c'è una riunione qui in comune di pesaro tra qualche giorno il giorno 11 non mi ricordo esattamente che giorno sia proprio per concludere diciamo definitivamente questo tipo di attività quindi sono disponibili 4 milioni 800 mila euro del ministero attraverso la regione Marche la procedura diciamo così di approvazione sarà conclusa entro l'anno e la scadenza entro gennaio 2024 per approvare il progetto esecutivo poi si va alla gara d'appalto la gara d'appalto quindi potrebbe anche succedere che i lavori iniziano già la prossima primavera e la strada del cosiddetta del mare è inclusa nel primo lotto di intervento perché è la strada che servirà proprio da strada di cantiere cioè i mezzi che dovranno operare per il ripristino della falesia nella sua complessità dovranno passare per quella strada conseguentemente sarà ripristinata come primo intervento e conseguentemente poi potrà successivamente essere utilizzata anche da eventuali mezzi di soccorso qualora ce ne sia bisogno eccetera e alla fine degli interventi rimarrà una strada accessibile perché sarà ripristinata appunto durante i lavori proprio come strada da utilizzare per i mezzi di servizio quindi è indubbio che sarà ripristinata per prima e poi alla fine dei lavori rimarrà a disposizione della collettività come sempre è stato in passato c'è stato un incendio ieri mattina attorno alle 7 all'hotel Nautilus sul lungomare di Levante di Pesaro l'albergo del gruppo Lindbergh di Nardo Filippetti era chiuso da pochi giorni proprio dopo la fine della stagione estiva un ruogo si è sviluppato da un seminterrato dove è collocata una rimessa delle attrezzature che ha preso fuoco per cause in via d'accertamento i vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi e 12 uomini per un intervento durato diverse ore vigili del fuoco che hanno circoscritto l'incendio limitando i danni da quantificare al solo seminterrato Leadership al femminile è il titolo del convegno tenutosi ieri nella sede di Confcommercio Marche Nord organizzato dall'associazione Terziario Donna un approfondimento sulle sfide crescenti dell'imprenditoria al femminile che andiamo a scoprire in questo servizio Imprenditrici di ogni settore e tipologia si sono riunite domenica nella sede di Confcommercio Marche Nord in occasione del convegno Leadership al femminile una svolta culturale verso l'innovazione e la sostenibilità un appuntamento organizzato dall'associazione di Confcommercio Terziario Donna per tavoli di confronto sulle dinamiche di cambiamento che intercorrono nell'imprenditoria al femminile dal tema della leadership a quello dell'innovazione dal management alla sostenibilità ambientale Si parlerà del futuro, del futuro dell'imprenditoria femminile di quelle che sono le aspettative e prospettive per creare nuove imprese imprese diverse con una visione molto nuova dati i relatori che sono tutti i relatori importanti e anche le nostre imprenditrici locali sono imprenditrici d'eccellenza Oggi nell'impresa vince proprio chi innova chi si riconduce anche ad essere un'imprenditrice flessibile chi anche crea partnership importanti a livello relazionale ed è proprio questo oggi l'incontro poi che abbiamo voluto fortemente con Confcommercio creare una sinergia tra imprenditrici che possano in questo network relazionale di oggi sicuramente ispirarsi l'un l'altra attraverso delle storie di successo Parleremo di felicità economica quindi un aspetto veramente interessante cercheremo di affrontare questo argomento sia per quanto riguarda l'impresa sia per quanto riguarda la donna in generale chi non ha a che fare con la finanza con l'aspetto finanza quindi lo cercheremo di affrontare in modo leggero dando spunti e desiderio di conoscenza, consapevolezza e coraggio E quella di ieri è stata una domenica davvero gratificante per il territorio di Cantiano che ad un anno dalla disastrosa alluvione è riuscita a ripartire organizzando Cantiano Fiera Cavalli un'assoluta eccellenza per quello che riguarda il territorio del Catria Oggi ritorniamo con un grande evento forse il più grande evento, la più grande Fiera Cavalli ma è stata finora il successo di pubblico e di presenza lo dimostra come evento di ripartenza è stato difficile rimettere in campo un evento del genere che è un grande contenitore, complesso di gestione ma che credo sia anche di incoraggiamento a una comunità che nel frattempo non ha voluto gettare la spugna si è riorientata verso un meccanismo di ripartenza tanti sono ancora i problemi da risolvere ma credo che momenti come questo di promozione, di ricaduta reale, economica sui nostri imprenditori sul nostro filiera dell'agroalimentare credo che siano boccate d'ossigeno e di fiducia per guardare con ottimismo alla ripartenza del paese Dal 15 settembre come dicevo prima anche l'aspetto allevatoriale sembrava compromesso ricordo a tutti che ancora abbiamo dei grossi gravi danni alla strada che ci porta al Catria grazie alle istituzioni, grazie all'intuito di noi allevatori abbiamo bypassato quello che è il più grosso danno che ha ricevuto il Catria il cavallo è anche questo si casca da cavallo e si rialza subito e si rimonta in sella questo ponte qua che è stato il ponte più famoso in tutta Italia grazie anche all'onorevole Carloni grazie al Presidente Acroli, insomma al nostro sindaco Piccini e alla ragione Marche grazie ai consiglieri rossi insomma a tutti ce l'abbiamo fatta è stato riaperto è stato riaperto ieri e oggi siamo qua in questa splendida cornice e infatti abbiamo tutti il sorriso in bocca dai bellissimo oggi tutti qui per cercare di continuare a valorizzare la nostra unica razza equina regionale che è quella del cavallo del Catria e anche grazie alla nostra legge regionale di valorizzazione e di tutela del cavallo del Catria che è possibile questa fiera con la regione Marche quindi diciamo che è un momento di festa è un momento di rinascita ha un valore doppio l'abbiamo risollevata da una crisi profonda rischiava anche di non farsi questa edizione per varie ragioni ovviamente per l'alluvione il ponte di Mampuia era chiuso quindi con una collaborazione vera, forte tra il comune, il sindaco, la provincia, la regione il commissario di governo per l'alluvione Acquaroli il vice commissario abbiamo veramente tenuto con le mani questa fiera e per la prima volta dopo 50 anni questa edizione è davvero speciale in primis perché c'è tanta gente poi perché c'è una forte presenza anche delle istituzioni cioè per la prima volta questa fiera viene finanziata dal Masaf e ha una gara morfologica sul miglioramento della razza questo significa dare prospettiva agli allevatori dargli la possibilità concreta oltre che di un importante contributo economico ma soprattutto di fare il miglioramento che significa dare valore aggiunto ad una razza quindi chi fa l'allevatore se il suo cavallo vale di più perché viene apprezzato di più dai giudici dal mercato che riguarda la corsa riguarda l'attività sportiva, l'attività turistica questo mondo è un mondo che comincia a valorizzare il cavallo e rende sempre più conveniente fare l'allevatore questo a catena genera benefici positivi per il nostro territorio perché? Perché fare l'allevatore in queste montagne non è facile lo puoi fare se c'è anche una remuneratività economica e quindi noi dobbiamo aiutarli a guadagnare di più e vi ricordiamo che potrete ulteriormente approfondire Cantiano Fiera Cavaglia attraverso lo speciale realizzato da Rossini TV che andrà in onda mercoledì 11 ottobre alle ore 21.20 e da Cantiano ci spostiamo ad Urbino dove in questo weekend è tornato dopo tre anni di pausa Biosalus, quattordicesima edizione del Festival del Biologico e del Benessere Olistico sono stati 20.000 visitatori registrati fra il cuore del Festival al Collegio Raffaello e l'area Biosalus Outdoor in piazza Mercatale naturopatia, medicina olistica al centro delle conferenze ed è la possibilità di un Festival che ha messo al centro anche tanto benessere sportivo dallo yoga alla pista di pump track dallo stand dedicato al paracadutismo fino alle passeggiate a cavallo e in bicicletta A Pesaro è iniziato questa mattina l'intervento da 500.000 euro di risorse comunali per i lavori di restauro e ristrutturazione del terzo piano dell'immobile comunale di Largo Mamiani 13 che accoglierà la sede della CTE Square la casa delle tecnologie emergenti e una volta concluso il progetto gli uffici del servizio innovazione tecnologica e transizione digitale lavori che si concluderanno in primavera E sono stati invece 89 le automobili che questo weekend si sono sfidate fra i tornanti del San Bartolo in occasione della sesta edizione della Coppa Faro un appuntamento valido per il campionato italiano velocità in salita per autostoriche ideato e organizzato da Alessandro Rinolfi e sostenuto dall'associazione Terra di Piloti e Motori A vincere la sesta edizione è stato il pilota fiorentino Stefano Peroni al suo terzo successo nella competizione La sua Martini MK32 è stata la più veloce nei 3,8 km del percorso secondo il torinese Mario Massaglia terzo il pisano Piero Lottini Ed ora una segnalazione che ci arriva dalla famiglia Bonaparte dell'azienda RB Plast che sottolinea un disservizio al Palasport di Campanara durante il debutto di ieri della Megabox Vallefoglia nella massima serie di pallavolo femminile Un disservizio che riguarda l'assenza di bottiglie d'acqua in vendita nell'intero Palasport dove non c'è servizio bar e ci sono due distributori automatici muniti di bibite ma nell'occasione sprovvisti di acqua All'esterno della struttura era invece presente un chiosco ma vista la situazione ha finito ogni scorta d'acqua in breve tempo Con la segnalazione si invita a rimediare in fretta a questa lacuna in vista delle prossime gare E Megabox Vallefoglia che è uscita poi sconfitta dal debutto casalingo al pari della VL e della Fiorini Pesero Rugby nel calcio invece pari spettacolo per la Vispesero ad Ancona Due sconfitte in due partite Dopo il colpaccio sfiorato di Brescia la VL cade alla prima in casa con Venezia davanti al pubblico della Vitri Frigo Arena Finisce 64 a 76 in una gara in cui al di là di un approccio arrembante del primo quarto dei ragazzi di Buscaglia vedrà Venezia sempre avanti al termine di ogni parziale La Reher si dimostra superiore per fisicità, tecniche e percentuali e la VL che già faticava a reggere la forza d'urto Veneta deve pure fare i conti con Bamford a mezzo servizio Totè sarà l'ultimo a mollare in una squadra che ha fatto una trasversale fatica a rovesciare l'inerzia di un ritmo di gioco imposto da un avversario dimostratosi superiore In Serie B sorride invece l'Ital Service Loreto Basket che sbanca Pescara 58 a 67 centrando la seconda vittoria su altrettante partite giocate Nel calcio secondo pareggio consecutivo in altrettanti derby per la Vispesaro che dopo il 2 a 2 con la fermana esce dal Del Conero di Ancona con un pirotecnico 3 a 3 Ancona avanti con Spagnoli al dodicesimo ma Vische va al riposo in vantaggio grazie a un rigore di Di Paola e una deviazione di Mattioli su punizione dello stesso Di Paola Il portiere neri però si fa male il subentrante Polverino alle sue responsabilità sui gol che portano l'Ancona di nuovo avanti con Basso e Agimang Al 92esimo è però l'incornata di Silla a sigillare il 3 a 3 definitivo Prima di campionato invece per la Megabox Vallefoglia nella pallavolo che era il debutto a Pesaro davanti a 830 spettatori Vincerà Roma al tie-break con set sempre equilibrati Le Tigri si prendono primo e quarto set al quinto è però Roma a spuntarla 15 a 12 Uverture di campionato anche per la Fiorini Pesaro Rugby nella Serie A della pallovale Al Tecnovull Rugby Park a gioire è però Petrarca Padova che la spunta 20 a 33 Pesaro reagisce un primo tempo di grande fatica con i Veneti a riposo sul 3 a 19 rientra in partita ma i Veneti risultano spietati nel punire ogni sbavatura E con le notizie di sport concludiamo questa nostra edizione della telegiornale Rossini News Come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo lunedì 9 ottobre vede un altro lunedì all'insegna dei saggi di danza proposti dalle scuole del territorio vi proponiamo in questo caso Maleficent della Center Stage di Pesaro alle ore 21 e 20 E poi come sempre l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta a partire dalle 7 e 20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia tutte le mattine dal lunedì al sabato E si conclude invece qui l'appuntamento informativo di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio per averci seguito